Sembra di stare a dicembre, io non riesco a capire come sia possibile questa cosa, siamo arrivati a maggio, io sto ancora con la felpa, il che è veramente gravissimo, vabbè a me mi piacciono più gli indumenti invernali che quelli estivi, quindi a me sta bene così, preferisco l'inverno che l'estate, quindi a me sta bene così. Oggi siamo qui per le pagelle di Manchester United, Shelf United finita 4-2 per noi, partita che in generale mi ha lasciato tante cose positive e tante cose negative, che ho già spiegato nel post partita, quindi oggi preparatevi perché ci saranno dei voti contrastanti, perché ad alcuni giocatori ho dato dei voti alti, ad altri invece ho dato dei voti molto molto bassi, quindi se vedete questa incongruenza tra un terzino e l'altro, un difensore e l'altro, un centrocampista e l'altro, vi ho spiegato il perché, ci sono alcuni giocatori che mi sono piaciuti, altri che non mi sono piaciuti per niente. Prima di iniziare ovviamente vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella, ma soprattutto lasciate like a questo video per supportare il canale, partiamo dal peggiore in campo, partiamo dal peggiore in campo, Nana voto 4. Ragazzi, mi dispiace, ma quell'errore che lui ha commesso è stato matornale, è un errore che può succedere, perché può succedere soprattutto ad un portiere che gestisce con i piedi, che costruisce una manovra con i piedi, che è praticamente un giocatore di movimento aggiunto all'interno del rettangolo del gioco, può capitare. È capitato a Alisson, è capitato a Neuer, è capitato, e capiterà di nuovo anche a questi portieri, perché sbaglia solo chi ci prova, però è stato un errore troppo grande. È stato un errore che rischiava di compromettere la partita, quindi io non posso non dare il peggiore in campo a un giocatore che ha fatto un errore grave, molto grave. Ovviamente sul secondo gol la colpa non è sua, ovviamente la responsabilità della prestazione in generale dello United nella fase difensiva non è colpa sua, ma lui rischia seriamente di compromettere il risultato. Quindi il voto 4 per me è giusto e soprattutto il peggiore in campo, cioè il premio da peggiore in campo è giusto che se lo prenda lui, perché come sapete io sono molto obiettivo anche quando si parla dei miei giocatori preferiti, perché Onana è uno dei miei giocatori preferiti nel Manchester United, ma in generale è il mio portiere preferito, quindi dopo il portiere del Porto ovviamente. Quindi io cerco di essere il più obiettivo possibile, per me è stato il peggiore in campo, quindi voto 4. Proseguiamo adesso con, oddio ho allargato tutto, proseguiamo adesso con Wanbisaka, voto 5.5. Allora, ero parecchio indeciso, perché nella fase difensiva non è che si sia comportato proprio malissimo, sicuramente meglio delle altre volte dove ha fatto più danni della grandine, dove ha distrutto qualsiasi cosa. Con Chef United non si è comportato proprio male nella fase difensiva, però io stavolta devo dare ragione a Ruggero. Allora, non gli do ragione sul fatto della velocità, perché Wanbisaka non è veloce, cioè non è veloce come altri terzini. Se uno ascolta quello che ha detto Ruggero per 90 minuti, pensa che Wanbisaka sia Usain Bolt. Quando non è così, Wanbisaka per me, per me. Cioè, dati alla mano, se andiamo a guardare, è più lento di Walker, è più lento di Talò, è più lento di tanti terzini. Quindi non è vera sta cosa che è velocissimo, è incredibilmente veloce. No, però do ragione a Ruggero sul fatto che questo non attacca. Non attacca, ragazzi. Wanbisaka non attacca. Non attacca la profondità, non crossa. Cioè, la gestione di Wanbisaka nella fase di costruzione dello United è passaggio all'indietro. E non è possibile. Perché poi, se tu il giorno dopo ti vedi Brighton City, giorno dopo, si è giocata ieri, lo United ha giocato, non mi ricordo, giovedì, quindi sì, ieri, boh, non lo so. Comunque, uno se va a guardare City Brighton, Brighton City, quello che è, se vede Walker, oppure se va a guardare Liverpool, se vede Arnold, oppure se va a guardare il Tottenham, se vede Pedro Porro, dici, ma che abbiamo fatto noi dei male, per meritarci un terzino che non attacca. Cioè, questo, ragazzi, non attacca la profondità, non crossa, non tira, non fa nulla nella fase offensiva. Non fa niente. È un giocatore che deve essere messo in un sistema di gioco dove giochi da dietro. Cioè, che giochi con la linea della difesa bassa. Come giocava Olle? Olle giocava con la linea della difesa bassissima per giocare di contropiede, quindi aveva bisogno di quel terzino ben posizionato che sapesse recuperare gli esterni tramite interventi abbastanza rischiosi. Wan-Bissaka, in un sistema di gioco dove la linea della difesa è alta, è completamente inutile, perché non ti aiuta. Uno dice, vabbè, però nella gestione perde pochi palloni. È certo che ne perde pochi. Fa sempre i passaggi da tumetri. Cioè, è difficile che perdi i palloni. Per questo vi dico tante volte le statistiche accantonatele, perché se voi andate a vedere le statistiche della prestazione Wan-Bissaka contro Shelf United, dite, madonna che partita che ha fatto. Poi però andate a guardare realmente il match e dite, mio Dio, ma questo è inutile. Perché è inutile? È inutile nella fase offensiva. È un giocatore che non può più continuare, ma questo è un altro discorso. A me, in generale, la fase offensiva non mi è dispiaciuta, ma la fase offensiva è stata oscena. Quindi 5 e mezzo. McGuire voto 7. E io non voglio ripetere sempre le stesse cose su ogni video dove facciamo i voti, però, raga, io questo, ragazzo, io voglio fare continuamente gli applausi. L'ha evidenziato anche Ruggero. Sono parecchio d'accordo con quello che ha detto Ruggero durante la partita, a parte su Onana e Anthony, ma che con quelli dice sempre la stessa cosa, Ruggero. Però su McGuire sono d'accordo. Sono d'accordo perché McGuire ha perso la fascia capitano, McGuire ha perso tutto, McGuire ha veramente visto la fine della sua carriera. Si è ripreso, si è ripreso da solo lottando per il suo posto. Giocatore che in questo momento, per me, va rivalutato. Va rivalutato nel percorso a fine stagione. Perché la prestazione con lo Sheffield non è stata buona solo nella fase difensiva. È stata ottima soprattutto nella fase di possesso. È un giocatore che per me Tenag dovrebbe valutare meglio nella fase proprio di costruzione della manovra. Perché è un giocatore che contro Sheffield, l'abbiamo visto anche contro il Coventry City, finalmente l'ho pronunciato bene, si è spinto in avanti. E ha mostrato delle abilità veramente eccelsi, come le mostrava con il Leicester. Dove il sistema del Leicester gli dava la possibilità di spingersi molto in avanti. Quindi per me va rivalutato. Perché la prestazione, le ultime prestazioni McGuire in fase proprio di creazione dell'occasione pericolosa è veramente ottimo. Prestazione comunque di altissimo, altissimo livello. Giocatore che ha aumentato il suo calibro, il suo peso all'interno della squadra. Casemiro voto 5. Io non dico più niente. Ha fatto qualche intervento pulito. Sembra che se sia un po' un attimo sistemato come difensore abbia un po' capito. Cioè comunque sia lui, essendo mediano, può ricoprire quel ruolo in situazioni di emergenza come quella che sta vivendo lo United. Ma ragazzi, continuo a fare danni, soprattutto nella fase di possesso. Cioè, non è possibile che McGuire mi avanza nel modo giusto, al momento giusto. Sa quando deve passare la palla. Sa quando invece la deve tenere. Sa quando deve spingersi nella linea laterale. Sa quando invece bisogna andare centralmente. Poi devi dire Casemiro che prende palla e lancia. C'è una palla sui piedi, me scotta e ti pepia e lancia. Cioè, questa è una cosa che io non posso vedere. Questo è un problema che lui ha. Sia da difensore che da centrocabista. La difensore ha addirittura sta cosa accentuata. Perché lui, avendoci più pressione da parte degli attaccanti, tende a buttare via la palla. Ha cercato costantemente sti lanci lunghi che io non li riesco a capire. Mi dispiace ma non lo riesco a capire. Poi, in generale, ripeto, io non voglio essere neanche tanto cattivo. Perché giocava fuori posizione. Ma ragazzi, per me... Non è, non è. Non mi convince. L'anno scorso, almeno quando facevamo le pacelle, cacchio, quando si parlava di Casemiro, c'era qualcosa che a me convinceva. A me stanno, non mi convince niente. Non mi convince niente. Anche gli interventi, tante volte, se ne esce con questi interventi folli, a vuoto, anche contro avversari di livello basso, lui riesce a farsi saltare come un birillo. Questa è una cosa che va un attimo ragionata. Va un attimo capito che gli sta succedendo. Poi, ripeto, giocava fuori posizione, quindi io non ho voluto essere cattivo con il voto. Però il 5 se lo prende tutto. Adesso andiamo su Dalò. Attenzione, perché io nel post partita dico una cosa. E come sempre, voglio sottolinearla, quando io faccio il post partita, lo faccio a caldo. Perché? Perché il post partita è bello a caldo. È bello a caldo perché io sono una persona che ha vari fasi, ha varie fasi dopo la partita. Ho la fase di gestione, cioè la fase dove ingoio. La partita è il risultato. La fase in cui lo digerisco, quando digerisco il match. Poi c'è la fase di come quando uno mangia, quando tu prima mangi, poi digerisci e poi fai il bisogno per liberarti di quello che hai mangiato. La stessa cosa è per me quando guardo lo United. Mangio la partita, quello che guardo, quello che vedo, lo digerisco e poi faccio uscire fuori qualcosa dalla mia testa. Quindi quando io faccio il post partita lo faccio in maniera molto calda. E tante volte mi dimentico alcune cose oppure le interpreto male. Poi a mente lucida capisco che la mia interpretazione è sbagliata. Infatti sulla situazione di Dalot chiedo Venia. Perché io nel post partita ho detto che la colpa per me era De Onana e De Dalot nel primo gol. Quando non è così. Ho rivisto l'incontro, ho rivisto il gol che lo United ha preso, la colpa è tutta De Onana. Perché Onana a testa alta ha visto Dalot, sapeva che era pressato, non doveva passarla lì, l'ha passata lì, l'ha messo in una situazione di errore. Cioè più che errore in una situazione dove la palla non la poteva mai prendere e è successo poi quello che è successo. Quindi chiedo Venia da quello che ho detto, chiedo scusa a tutti, per me in generale la prestazione è stata più che sufficiente. Mi è piaciuto. Lui nella fase offensiva è fantastico. È fantastico. È qualcosa di veramente molto bello a livello visivo, ha una qualità eccelsa, gioca addirittura adesso l'ha messo terzino sinistro per limitare i danni di Wanbisaka e lui a destra sinistra nella fase offensiva non gli cambia niente. Anzi, addirittura con Garnaccio mi sono piaciuti molto quella combinazione Garnaccio-Talot. Nella fase offensiva è migliorato, è ovvio che deve ancora limare qualche piccolo difetto, ma è giovane. È giovane, è un investimento per il futuro perché parliamo di uno che l'abbiamo pagato tanto, sì, ma adesso già vale di più. Vale 20-25 milioni di più. Con il giusto sistema, il giusto rendimento, con le giuste idee da parte del mister questo ragazzo ha solo lati positivi perché può solo che migliorare. Quindi va investito del tempo nei suoi confronti e a me è piaciuto. È piaciuto particolarmente quindi voto 6 non gli ho dato più del 6 perché in generale comunque la difesa andando a prendere due gol non è che poi gli ho dato più del 6. Ho dato 7 a Meguagli e l'ho spiegato il perché. Proseguiamo con Eriksen, voto 6. Allora anche lì a mente non lucida che manco mi ricordo perché quando registro il post partita voi vedete che io lo registro a prima botta ma sapete quante volte io ripeto la intro perché a mente non lucida non mi escono le parole. quindi non so se l'ho detto all'inizio di una determinata intro che poi non ho più caricato perché ho caricato quello che avete visto comunque Eriksen voto 6 perché a me non mi è dispiaciuto ma allo stesso tempo cioè boh anche lui non è più l'Eriksen dell'anno scorso io credo che questo sia dovuto anche al fatto che Tenag non gli ha dato più minuti e quando tu è un giocatore non lo fai giocare poi non riesce a concretizzare gli allenamenti che lui fa non riesce soprattutto a dimostrare il suo valore Eriksen è un giocatore che deve avere minutaggio perché non è Ronaldo non è Messi Messi e Ronaldo puoi non metterli in campo per 10 partite all'undicesima li rimetti in gioco e te fanno 4 gol Eriksen è un giocatore con delle abilità eccelse nel suo ruolo ma non può giocare una partita su 20 va messo dentro e non è possibile che Eriksen rientra in campo quando scappa fuori la notizia che la società la nuova proprietà ha chiesto ad Eric Tenag di costruire in queste ultime partite un sistema di gioco che si basa sul possesso palla cioè non è possibile che io non so se questa cosa sia vera è stata detta da alcune testate giornalistiche che io perlomeno tengo a cuore perché mi fido ovvio che poi le testate giornalistiche sparano delle strozzate perché un po' di sempre la verità pure Fabrizio Romano sbaglia che è Dio a livello dei notizi di calciomercato quindi ci può sta che sbagliano pure loro o te scrivono quella determinata stronzata per fatteci crede però scappa fuori sta notizia tre ore dopo gioca lo United lo United gioca col possesso palla continui movimenti costruzione ottana non so abbiamo finito il primo tempo con più del 60% di possesso palla che nell'andata perché uno può dire vabbè ma giocate con lo Sheffield nell'andata se voi andate a vedere le statistiche il primo tempo no no non è stesso avversario stesso avversario però prestazioni completamente diverse a livello del possesso quindi io credo che ci sia stata una spinta da parte di qualcuno sopra che ha chiesto più possesso e quindi casualità è entrato in campo Eriksen che è un giocatore che ti dà possesso ripeto in queste partite Eriksen non può non giocare col Barney sabato col Barney sabato io richiedo Eriksen perché Eriksen è un giocatore che ti controlla la partita soprattutto ti dà possesso palla perché a differenza di Casemiro non è un giocatore che velocizza cioè non è quel giocatore che prende palla e lancia perché non sa quello che devi fare con la palla è un profilo che riesce a tenere il pallone e l'ha fatto anche con lo Sheffield United cioè lui è riuscito a rallentare e accelerare rallentare e accelerare difficilmente ti sbaglia il passaggio e difficilmente sbaglia l'intuizione che ha e con lo Sheffield ha veramente sbagliato pochissimo con la palla a tre piedi dopo siamo d'accordo che nella fase difensiva pecca ma contro Sheffield contro queste squadre dove tu sei il dominatore non sei la preda sei il cacciatore dovresti essere il cacciatore perlomeno Eriksen deve giocare poi se giochi col City giochi con Liverpool che lì in quel caso sei tu la preda e loro sono i cacciatori allora lì metti in campo giocatori che vanno meno con la palla e più senza palla ma Eriksen queste partite ve l'ha dimostrato anche con lo Sheffield le deve giocare perché ha controllo ha controllo è un giocatore freddo non ha paura di tenere la palla a tre piedi quindi voto sei proseguiamo con Kobe ma vabbè ma dai su questo sto d'accordo su quello che ho detto nel post partita Kobe e Kobe e Kobe cioè ormai credo che ha già iniziato ad avere una piccola eredità sulle spalle speriamo che non gli peserà come il proseguimento di questa e la prossima stagione però comincia già ad avere un'eredità veramente importante abbiamo parlato più e più volte di questa cosa che le persone adesso si aspettano tanto da lui perché lui ha costruito una piccola eredità piccola però c'è un'eredità cioè quando c'è Kobe in campo i giocatori chiedono qualcosa da Kobe i tifosi chiedono qualcosa da Kobe quindi per me 7 e mezzo perché ha fatto una prestazione epocale non ha perso un pallone ha sempre recuperato tutto quello che poteva recuperare avanti indietro controllo palla intuizioni movimenti senza palla aggressione della profondità ha saputo rientrare per coprire determinati spazi vuoti proprio una partita di una completezza disarmante disarmante io gli voglio fare solo un applauso perché se merita solo questo se merita solo e applausi sto ragazzo e basta io non posso riaffrontare possiamo sempre affrontare gli stessi discorsi Maino ha fatto una partita da Kobe Maino perfetta proseguiamo adesso con Bruno migliore in campo per l'ennesima partita siamo alla seconda o la terza partita consecutiva dove per me Bruno prende l'MVP dell'incontro voto otto e mezzo allora fa un euro goal clamoroso segna sul rigore e fa l'assist non vorrei dire che ha trascinato lo United addirittura mi si ha fatto due assist perché lui ha fatto i due goal uno sul rigore e quello da fuori aria più mi sa che lui ha battuto il calcio d'angolo sul gol ah no perché Maguire non segna il calcio d'angolo ma segna sul garnaggio quindi no ha fatto due goal e un assist comunque rimane la sua prestazione incredibile ha fatto una prestazione da capitano ha fatto una prestazione da Bruno Fernandes ha fatto la prestazione da top player perché questa è stata la prestazione da top player si è messo sopra le spalle una squadra intera che cammina in determinate situazioni alcuni singoli proprio non corrono Bruno è sempre lì Cristo Dio la gente che lo critica si deve tappare la bocca si deve tappare la bocca perché in questo momento in Premier League l'unico trequartista cioè Bruno Fernandes è il trequartista con più gol e più assist combinati quindi non ha rivali in questo momento a livello statistico e va rispettato per quello che sta facendo quindi Bruno otto e mezzo prestazione fuori 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 dal normale proseguiamo con Anthony eh io sono grande fan di Anthony lo sapete lo difendo ma il mio amore nei confronti di alcuni giocatori non può andare oltre alla mia obiettività la prestazione di Anthony è stata sciapa insapore non mi ha dato niente non mi ha convinto va un attimo capita la gerarchia con Diallo perché Diallo comunque sia entrato nel secondo tempo ha dato ha dato tanto ovviamente anche lui ha dei difetti però lo vedo più dentro la partita Anthony invece col Sheffield io pensavo in una prestazione ben diversa perché dopo tanto tempo ti viene ridata la possibilità di partire titolare l'ho visto abbastanza in confusione si ha un ottimo controllo in alcune situazioni ci ha aiutato anche a tenere il pallone in avanti ma non ha fatto una prestazione sufficiente per me è stato giusto poi farlo uscire questo questo è questo è per me poteva poteva sicuramente dare di più non è stato il peggiore però poteva dare sicuramente di più ha toccato anche pochi palloni per il giocatore che io per come lo valuto io Garnaccio voto 6 a differenza di Anthony lui è stato sempre in partita forse merita anche il 6 e mezzo e infatti mi sa ragazzi che in diretta lo cambiamo insieme perché Garnaccio fa l'assist a Maguire ma non solo fa continue azioni crea continui pericoli sbaglia sottoporta ma questi sono errori ripeto non voglio ripetere sempre le stesse cose fa errori da un ragazzino di 19 anni se può chiedere a Garnaccio di segnare tutte le volte che sta sottoporta io vi vorrei ricordare che Vinicius i primi anni a Real Madrid sbagliava pure le cose più semplici ed Inseguo che va a avere una punta ed Inseguo che quando è andato a Roma sbagliava pure a porta vuota nella prima stagione quindi non è che se può chiedere a Garnaccio deve fare 20 gol l'anno anche perché in questo momento è l'adolescente che ha segnato più gol se non sbaglio e ha realizzato più assist in Premier League non c'è un esterno della sua età in Premier League che ha fatto più di Garnaccio quindi io che stiamo a parlare crea costantemente pericoli tira 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 crea pericoli passa bene la palla se sovrappone bene e fa sovrapporre bene i propri compagni è un giocatore che io l'ho detto l'anno prossimo sarà cruciale e fondamentale per qualsiasi allenatore o per Tenag o per chi arriverà al posto di Tenag sarà cruciale perché avrà l'upgrade quello che tutti noi vogliamo perché la fisicità sta arrivando e la fase realizzativa per me arriverà proprio la prossima stagione perché lui sta piano piano formando la sua bravura sottoporta quindi se è in mezzo per tutto quello che ha fatto in campo per tutto quello che ha dato a livello de possesso e de non possesso rientra sempre dietro è un giocatore che lo United non può mettere in panchina 32esima partita dove parte titolare 33esima l'anno prossimo fino a fine stagione Garnaccio esterno sinistro titolare basta non a destra a sinistra Garnaccio è un esterno sinistro non destro ok è bravo è abile questo gli dà l'opportunità di poter giocare pure a destra ma lui è un esterno sinistro è come mettere Foten a sinistra Foten a sinistra ci sa stare ma lo limiti mettendolo a sinistra Garnaccio va messo a sinistra non a destra Oilund voto 6 e mezzo fa una prestazione o a me non frega niente dai io adesso questa volta non sono stato obiettivo non sono stato obiettivo perché le persone mi cagano il cazzo perché insegna cioè mi dicono ma no ma come fai a dare ad Oilund 6 che non ha segnato io a queste persone rispondo costantemente ma il ruolo dell'attaccante all'interno cioè nel calcio moderno non è più solo quello di segnare soprattutto in una squadra come quella dello United dove il numero 9 tocca 4 palloni a partita noi poi chiediamo ventenne di segnare costantemente ogni singola partita e per se vi rispondo non è mai stato pagato per segnare e allora Cristo Dio quando segna io la sufficienza la do anche se in generale a livello di prestazione nel fraseggiare con i compagni non mi è piaciuto perché a me in questa partita dove non mi è piaciuto proprio nel fraseggio non mi è piaciuto proprio nel contesto di manovra perché è stato letteralmente chiuso da tre avversari ogni volta che partita c'è tre uomini contro assegnato quindi adesso per il ragionamento di tante persone che non capisco perché mi seguono perché io faccio dei ragionamenti che vanno poi appoggiati alle persone che mi seguono perché uno che mi segue è costantemente è contro le mie idee come fai a seguirmi non lo so cioè nel senso se tu sei costantemente contro le mie idee e riesci comunque a seguirmi sto contento per te significa che qualcosa do perché se no non c'ha senso quindi per me Oilund fa una prestazione in generale nel complesso proprio a livello come ho detto di costruzione con i compagni non mi è piaciuto come a differenza delle altre partite tipo con Covered City mi ha fatto impazzire ma la gente mi diceva no ma non ha segnato fatto schifo e quindi famo così cambiamo le carte in tavola stavolta faccio io lo stronzo metto Oilund 6 e mezzo anche se per me il 6 e mezzo non se lo meritava proseguiamo con i panchinari Diallo e Scott voto 6 entrambi Diallo come l'ho citato prima è entrato meglio di Anthony a me Diallo ve l'ho detto non è un giocatore che può partire tutte le partite titolari non sono un folle come tanti di Fossilio United che se parte titolare Carnaccio non va bene perché doveva partire Rashford se parte titolare Anthony non va bene perché doveva partire Diallo ma se parte titolare Diallo non va bene perché doveva partire Anthony e se parte titolare Carnaccio non va bene perché Rashford un po' sta in panchina io non so così stronzo che ogni scelta che fa l'allenatore non va bene Diallo è un giocatore che non può giocare 90 minuti non c'ha la fisicità non c'ha è proprio la struttura fisica per resistere 90 minuti si vede ma allo stesso tempo deve 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 giocare di più deve assolutamente giocare di più soprattutto ve lo dico in maniera molto schietta se tu quest'estate quest'estate rimane Tenag quindi noi rimaniamo convinti di progettare il prossimo futuro con l'allenatore olandese se Tenag non lo vede come il giusto giocatore per la sua idea di calcio va venduto o va mandato in prestito quindi il senso è perché non farlo giocare adesso che è rimasto tanto ormai la stagione è andata a puttane cioè mettiamocelo mettiamocelo in testa che la stagione è andata a puttane io potevo capire se stavi all'ottavo il posto di Champions ok allora mi stavo zitto ti dici ti vuoi affidare solo a quelli che ti piace a te però in questo momento la stagione è andata a puttane l'unico posto che ti è rimasto è l'FA Cup la finale FA Cup ma vuoi di che tu contro il covert contro il Barney domani o contro lo stesso Shelf United non metti Diallo perché c'è paura che Diallo non ti fa quello che pensi cioè ormai la stagione è andata il tuo obiettivo sì è quello che qualifica a te in Europa League ma non c'è più le pressioni di prima perché ormai tutti si sono arresi quindi butta dentro Diallo per me non è un errore non dico di farlo giocare a 90 minuti ma farlo giocare a 40 minuti 50 minuti perché non credo che sto stronzo abbia fatto qualcosa di male a meno che io non lo so non lo sappiamo che ne so l'ha offeso e ha detto che è un pelato allora lì in quel caso mi ha mancato di rispetto ma non credo perché non è uscito fuori mai niente di tutto ciò quindi Diallo per me deve giocare un po' di più non dico 90 minuti non sono pazzo che vi dico 90 minuti perché lo vedete a Garnaccio cioè struttura fisica tra Diallo e Garnaccio è completamente diversa Garnaccio è spanne sopra non a livello tecnico a livello proprio fisico è molto più preparato anche lo stesso Kobe è cascato il quaderno da solo vabbè quindi per me Diallo voto 6 va messo più in campo perché quando è entrato con lo Sheffield ha fatto la differenza Tenaghi che è scomparso donato 6 e mezzo 6 e mezzo i motivi di questa sufficienza permesso che alla fine le scelte non sono state del tutto sbagliate mi è piaciuto il fatto che ha fatto entrare il ragazzetto a fine partita che non ho messo nella ipacele come non ho messo ambrabatte perché sono entrati alla fine in generale per me ha fatto le scelte giuste stavolta anche perché la squadra era limitata agli infortuni queste erano le scelte da fa mi è piaciuto il fatto che lui ha proposto un calcio di possesso e ripeto non va non va non va non va sottovalutata questa cosa perché Cristo Dio all'andata in fase di possesso contro proprio lo Sheff United abbiamo fatto schifo quindi lui comunque sia in questa partita ha deciso di cambiare adesso capiremo nelle partite seguenti se questa sua scelta avvenuta con lo Sheff United è stata solo una casualità o comunque sia un solo tentativo oppure è proprio un obiettivo che lui ha in testa cioè cambiare la filosofia della squadra nelle ultime partite e se succede io dopo a fine stagione inizierò ad incazzarmi ancora di più perché perché non l'hai fatto prima vabbè meglio tardi che mai capiremo domani contro il Barney se la proposta di gioco sarà quella che abbiamo visto con lo Sheff United che mi è piaciuta molto di più per quanto non mi hanno convinto in fase difensiva della prestazione delle prestazioni che abbiamo fatto in passato che si basavano principalmente sul contrattacco e su un 3-1 3-1-6 in fase di possesso imbarazzante quindi un attimo capiamo come sarà la proposta nelle ultime partite e soprattutto cosa succederà domani detto ciò a me non mi è dispiaciuto le scelte che ha fatto la proposta di gioco eccetera eccetera voi ovviamente fatemi sapere la vostra qua sotto in commenti io rispondo a tutti vi saluto vi ringrazio per la visione e alla prossima gente oddio ho sbagliato non ho premo ciao